Vi ho portato un grosso applauso e ammette a dare una sera di valorizzazione che ci sono di questo momento. Dopo le direzze in Italia ci avevamo tutti e facciato un'indirizzo a meccanica. Il mese di giugno la questione della corve che è ben convictata, la pratica che abbiamo visto citare è utilizziamoli per i carri e per i carri e per i carri e per la criminalità. Come potete vedere dall'epoca, la foto che immaginate questi è che l'auto di Alessandro Parisi, l'auto è rotto in punto che abbiamo fatto a segnare, per il suo volo del grosso accento, perché la mette del bustino aveva lasciato l'aria criminalizzata, l'accento, per la terra, la proposta, l'auto, una grazia di grande roba, l'auto, e l'incendio è stato a mezzo, quindi lo vedi e lo vedi, l'alessandro ha subito altri imprendi su questa cosa, con l'aumento della sicurezza, perché non è una cosa che la dover mai sta inizializzata. Accetto l'alessandro. Le altre cose, molto velocemente, sono in Vila Ferrestri, dico solo che nell'ultimo periodo, anche se le settimane fa, io e la consigliera del schiavo abbiamo chiesto di visitare il Vila Ferrestri, c'era solo da più grande, però con l'ultimo periodo, tra le foto apparecchie, come nel periodo della criminalità, non dovesse avere trasparenza, e questo diciamo abbiamo chiesto di due possibili azioni, tanto è vero, proprio grazie anche a Dario, che ci vabbiamo chiesto, per una parte a fare le foto, a Vila Ferrestri, a mare, il mare ha un buon nome quotativano. E poi nell'altra cosa abbiamo il chiesto dell'anzarista, della situazione Asgam Modulus, che in realtà, proprio la fede, che è stata la caccia, la presa, le loro attività, quindi bene, come sapete, portava in viaggio a una caccia, con l'identità, che è stata iniziale cacciata. E l'ultima cosa, le vendite di quella, che ce l'ho fatto proprio, diciamo, attraversando bene, non stai, come già vi ho detto, in un'altra, a che fare, una buona camorra, che è stata iniziale, adottando il fatto di me, cacciata a Ciebie, che è stata iniziale, ma io avevo freddo, e quindi, troppo, non a prendere, come non a tutta fuoco. Il denuncio è il lucio, e la verabilità, e il cittadano Antonio è andato a mettere, come noi, dei principali, e...